Salve ragazzi e amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, il mio giro nel Borneo continua. In questo momento mi sono avvicinato lungo le coste del mare, mi trovo in un posto bellissimo, alla mia sinistra c'è il mare e alla mia destra c'è la montagna e mi sto accingendo a godere del succo, del nettere di un buonissimo cocco. Prendo come al solito in mano la macchina fotografica per mostrare anche a voi queste stupende inquadrature. Ecco, questo lato alla mia destra come vedete c'è la montagna e il lato a sinistra, non so adesso quanto si possa vedere però passato questo prato qua si scende un attimino e c'è il mare, mare che in questo momento è quasi confondibile con i colori del cielo perché è molto affoso, l'umidità dell'aria attenua i colori e crea poco contrasto. Eccoci qua e questo è il fantastico cocco il cui nettare in realtà è acqua e viene servito in questa modalità qui, vedete c'è la polpa attaccata, ti danno un cucchiaino col gambo molto lungo che serve per andare dentro a scazzegare, intaccare e a mangiucchiare anche la polpa che ha quell'effetto dissetante che ci vuole in queste località qua tipiche. Ok ragazzi per il momento è tutto, il mio viaggio continua e ci sentiamo alla prossima.